Cari amici buonasera e benvenuti all'All Fashion, siamo qui per presentare un grande amico, un grande compleanno, signori Renato Russo per voi questa sera qui all'All Fashion, gli lasciamo la parola così ci presenti gli amici che sono vicino a noi. Sì buonasera a tutti, siamo qui all'All Fashion per festeggiare il mio compleanno, vorrei ringraziare a tutti gli organizzatori e a tutti quelli che sono intervenuti questa sera per festeggiarmi e come dico io sempre col cuore. Qua abbiamo Mediaset Sky, abbiamo Etienne Milano, numero uno, Luca Noto, grandissimo fotografo, abbiamo di tutto, non ci manca niente, stasera comandiamo noi a Milano. Grande festa, vai, abbiamo l'organizzatore primo, lui, il grande Gabriele, grazie, grazie a tutti, siamo ripartiti, sarà un anno bomba, venite tutti con noi ogni lunedì, vi aspettiamo lista infiniti, siamo il gruppo più bello di Milano, è il gruppo più forte di Milano, quindi venite tutti da noi e ci divertiamo, ogni lunedì All Fashion, comandiamo noi. Allora ringraziamo la direzione artistica del locale, All Fashion, la direzione tecnica, gli eventi di tutto il mese di settembre-ottobre e oggi inauguriamo la stagione Falta e rotta, Gabri Infinity, l'agenzia Sony Music, Rita Costa, Sergio Soldano, il mio miglior amico Renato Russo. Sal cuore, baci, ciao, alla prossima, ciao.